Cinema gratis per l'epifania per gli alunni delle scuole di Montevarchi, appuntamento alle 11 alla multisala Cineotto con l'ultimo capolavoro Disney, Coco. Ingresso appunto a 0 euro, è necessaria però la prenotazione fino ad esaurimento posti. Ritorno ad una delle iniziative più care che ci sono state nel territorio montevarchino, ritornando appunto al cinema. Mi preme però sottolineare l'organizzazione che abbiamo messo in piedi per questa iniziativa. Sarà possibile venire a ritirare i biglietti. Allora, il film sarà proiettato su quattro sale e i biglietti sono fino ad esaurimento posti. Pertanto invito tutti i cittadini di Montevarchi che hanno bambini nell'età della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e delle scuole medie a venire a ritirare i biglietti che sono numerati e è possibile ritirarli presso l'ufficio promozione del territorio in via Roma, esattamente di fronte alla pista di pattinaggio. Domani possibilità di prenotazione la mattina del pomeriggio, venerdì invece solo la mattina in orario di ufficio. Il comune raccomanda di minimizzare la presenza degli adulti per favorire quanti più bambini possibili per la visione del film.